Che cos'è Vivi365? È un percorso di un anno per migliorare il tuo benessere e costruire la tua felicità giorno dopo giorno. Un anno organizzato in quattro macro aree. Benessere fisico, emozionale, mentale, spirituale. 12 mesi, 12 temi. Ogni mese un solo tema. Da scoprire con la giusta profondità. Una troverai nella tua area riservata i video delle teorie. Le abbiamo costruite brevi, semplici, così che tu possa organizzarteli e gestirli come preferisci. E poi le pratiche. Ci saranno sia i video introduttivi, sia gli audio da scaricare e da seguire. Eccoci nella parte interna dell'area riservata. Siamo nel sito di Happiness for Future dove abbiamo organizzato per te tutti i contenuti. Una rapidissima scrollata su quelli che sono online. Tutta l'introduzione sulla scienza della felicità e tutto il mese di gennaio sul tema del sonno, che sarà il primo tema di cui occuparci. Come vedi, ogni mese, ogni settore ha diversi argomenti interni. Ne vediamo alcuni. Se clicchiamo sul benvenuti troviamo, ad esempio, questa introduzione, il video di benvenuto, la nostra lettera, dove ti auguriamo anche di poter riattivare il coraggio, il benessere e la tua felicità. Chiaramente le istruzioni su come usare il contenuto e la nostra regola del più uno, gentile, che ogni giorno, anche se fa poco, costruisce tanto nel medio e lungo tempo. Andiamo in un altro tipo di struttura. Andiamo sulla scienza della felicità e vediamo, per esempio, la teoria epigenetica di Sonia Ludomischi. Come vedi, ci sono tantissimi contenuti, teorie e modelli, il modello del perma di Seligman, le blue zone, le emozioni positive da Fredrickson. Ci sono veramente tantissimi. Andiamo sulla felicità epigenetica. Come vedi, ogni contenuto ha il suo video, una breve spiegazione e dei grafici che ti possono aiutare. E poi andiamo nella parte relativa al tema del mese di gennaio, il sonno. Troviamo qui le pratiche, quindi ci sarà una parte introduttiva con le teorie e poi diverse pratiche. Ce ne sono oltre cinque da poter scoprire e poi puoi scegliere quale portare avanti con continuità. Ne vediamo un paio. La coerenza cardiaca. Ecco, qui è una delle pratiche che Lara porta in Italia, prima trainer italiana dell'ArtMath Institute. Qui trovi tutta la teoria, la pratica e... Anche l'audio da scaricare. ...e da seguire per poter fare la tua pratica. Allo stesso modo, la stanza numero due, che è un metodo che ho ideato nel 2010, le stanze di immaginazione, con tutta la parte teorica, le indicazioni, il download dell'audio e tutto quello che ti serve per poter utilizzare questa pratica. E c'è anche il gruppo Facebook dedicato, un gruppo chiuso, andiamo a vederlo, nel quale ci sono già i primi partecipanti e dove presentarsi, scambiarsi feedback, chiedere, fare domande, confrontarsi e interagire con noi. E poi ci saranno due dirette al mese, una quasi all'inizio mese, per comprendere se la didattica e i video a disposizione sono stati chiari e una quasi alla fine per comprendere come è andato il mese, quali pratiche sono state più semplici, più amate, quali benefici e riscontri rispetto appunto al lavoro del mese. Domande e risposte. Noi siamo lì per aiutarti ad aumentare l'efficacia del lavoro che facciamo insieme. E ogni mese abbiamo anche la possibilità di scegliere, di condividere il percorso con un buddy, con un alleato sempre diverso col quale confrontarci, col quale spronarci a vicenda, chiedere come sta andando, raccontare e condividere quindi questo viaggio insieme. E poi c'è un altro alleato, la nostra agenda, il libro agenda, anche eccolo qua, Vivi 365 diviso nei quattro macrosettori fisico, emotivo, mentale e spirituale. È un libro agenda perché ci sono parti teoriche, ma poi anche la parte invece per monitorarci attraverso uno spazio dedicato alla ruota e la ruota va a monitorare i 12 settori a mano a mano che li affronteremo, uno spazio per appuntarsi come sta andando, questi cerchietti qui laterali dove scrivere le pratiche che abbiamo fatto durante la giornata e quindi ulteriormente raccogliere riscontri sul nostro percorso quotidiano. Avere traccia delle pratiche, delle abitudini che stiamo portando avanti ogni giorno e vedere quale ci sta funzionando di più e quale invece magari abbiamo lasciato indietro. Ogni dieci giorni il ten days check e a fine mese un check finale dove appunto appuntarsi come è andata quella parte del mese. Esatto, in che cosa siamo andati meglio, che cosa ha funzionato di più, quanto sta crescendo il nostro benessere in quella determinata area e anche in che cosa possiamo migliorare. La parte della formazione è curata quasi completamente da noi, ma non solo. Abbiamo avuto cura per poterti dare il massimo di chiedere aiuto a dei professionisti, che sono dei nostri amici, dei nostri partner, che ci accompagnano in alcune aree. Ad esempio, febbraio, alimentazione, leslipario, ci accompagna in un percorso di consapevolezza alimentare. Marzo, abbiamo Silvia Ferragudi che sta preparando per noi una serie di allenamenti. In marzo ci occupiamo di movimento e allenamento. Sul movimento abbiamo i contenuti, sull'allenamento abbiamo chiesto aiuto a Silvia. In agosto e in ottobre Paolo Roganti, insegnante di mindfulness che ci aiuta ad approfondire in agosto il tema della attenzione, del focusing, e in ottobre il tema della presenza. Il primo all'interno del benessere mentale e la presenza all'interno del benessere spirituale. C'è tantissimo entusiasmo da parte di chi è nel percorso, siamo veramente inondati di gratitudine, di affetto. Si sta raccogliendo probabilmente più di quello che si pensava e questo ci rende felici e grati. C'è tanta anche soddisfazione e gioia perché si riesce a seguire questo percorso. Se l'abbiamo reso semplice apposta, anche per chi magari non ha l'abitudine di portare avanti una pratica, lo abbiamo fatto pensando anche a te. La nostra filosofia è quella del più uno gentile, piccoli passi che a lungo andare generano grande miglioramento e grande cambiamento positivo. Un saluto, ci auguriamo che ci sarai anche tu. Ciao!